Diplomato nel 1980 presso la Scuola del Teatro Stabile di Genova, dopo l'avvio di carriera allo stabile, ha lavorato all'Ater, nel 1986, al Teatro dell'Archivolto di Genova. Ha iniziato la collaborazione con Maurizio Crozza, Ugo Dighiero, Marcello Cesene e Carla Signoris con i quali formerà poi Bruncovitz, quintetto comico specializzato nella satira e nella parodia. Si è dedicato quindi sia al teatro e alla televisione, interpretando il segretario del Vescovo nella prima serie di Don Matteo e apparendo più volte in Mai Dire, con svariati ruoli. Ha recitato in varie fiction e produzioni televisive. Un medico in famiglia, dal 1998 al 2000 Il dottor Giorgi, direttore sanitario dalla ASL nelle prime due stagioni. Compagni di scuola, Un posto tranquillo e Un posto tranquillo 2 Il mammo, arrivano i rossi Nel 2010 ha fatto parte del cast della fiction televisiva I Gambardella, con Lello Arena Nello stesso anno ha fatto parte del cast della serie televisiva Un passo dal cielo con Teren Ail Nel 2011 ha partecipato alla trasmissione di Maurizio Crozza Italia Land In uno sketch ispirato al film Il padrino con lo stesso Crozza ed il trio Aldo Giovanni e Giacomo Il mio心, riposo ai pepevato alla trasmissione di Maurizio Crozza Italia Land In un articolo con lo stesso Crozza Italia Land In un articolo con lo stesso Crozza Italia Land